Ciao a tutti, oggi abbiamo una notizia che sicuramente catturerà la vostra attenzione. Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più marito e moglie. Sì, avete sentito bene, la coppia che sembrava inseparabile ha deciso di prendere strade diverse. L'annuncio è arrivato direttamente da Tiziano Ferro, tramite un post su Instagram. Ma andiamo a ripercorrere la loro storia d'amore. I due si sono conosciuti nel lontano 2016, quando Tiziano si trovava negli studi della Warner Bros. per girare il video di Valore assoluto. È proprio lì che il destino ha fatto scoccare la scintilla tra loro. La storia d'amore è iniziata in modo piuttosto curioso. Tiziano Ferro, alla ricerca di un buon caffè da Starbucks, ha chiesto a Victor le indicazioni per raggiungerlo. La risposta di Victor è stata davvero interessante. Qui Starbucks non c'è, ma se voi possiamo andarci domani insieme. E così è stato, un appuntamento da Coffee Bean ha segnato l'inizio di questa bellissima storia d'amore. I due non hanno perso tempo e hanno iniziato a frequentarsi. Hanno celebrato il loro amore con un matrimonio il 25 maggio 2019 a Los Angeles e hanno ripetuto il rito il 14 luglio a Sabaudia, in Italia. Nel 2022 hanno ampliato la loro famiglia adottando due adorabili bambini di nome Margherita e Andress. Ma purtroppo, come spesso accade nelle storie d'amore, c'è anche una nota triste da segnalare. Tiziano Ferro ha condiviso la notizia del loro divorzio con un lungo post dedicato ai suoi fan, che sono sempre stati al suo fianco nei momenti di gioia e dolore. Nel post, Tiziano ha scritto, come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio. È un momento difficile per entrambi, e Tiziano Ferro ha anche dovuto rinunciare a tornare in Italia per la presentazione del suo primo libro a causa, di questa situazione. La fine di una storia d'amore così speciale è sempre un momento commovente. Speriamo che entrambi possano trovare la felicità nei loro percorsi futuri. Certo è che questa notizia ha scosso il mondo dei fan di Tiziano Ferro e Victor Allen rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti su questa storia e altre notizie dal mondo del gossip. Ciao a tutti! Grazie a tutti!